Ciao a tutti, oggi un nuovo video svuota la spesa Hipercop, forse un po' più genuino? Allora, sono tornata dall'Hipercop, ho fatto un pochino di spesa, non tantissima, allora qui c'è lo scontrino, ho speso 43,18 euro e adesso vi mostro che cosa ho comprato. E partiamo da questa bustina da 100 grammi di insalata, questa è l'insalata Iceberg della Bonduelle, bella croccantina. Poi ho ripreso le mele, Melinda, le Red Delicious, il Pistondrillo è stato bravo perché le ha mangiate. E poi, sempre per lui, ho preso le banane, le solite banane, voilà, eccole qui. Poi, due zucchine, sapete che le prendo sempre, le zucchine, perché è il mio ortaggio preferito, eccole qua, quelle chiare. Poi, in offerta, oh, ci sono schiacciate! In offerta, eccole qua, la pasta sfoglia e la brisè, sì, e la Bultoni. Allora, questa è quella integrale, che sapete che anche questa ormai la prendo sempre quando vada lì, perché non ne posso più fare almeno. E la leggera, la brisè leggera, con il 30% in meno di grassi. Poi, una scatolina di caffè, questo è il gusto intenso, viene chiamato Roma, è per la macchinetta Bialetti. Poi, un po' di pesce, di merluzzo d'Alaska, della Filus, c'era un'offertona e ho preso praticamente tutti i gratinati di tutti i gusti. Ovvero, questo, merluzzo d'Alaska con i funghi, sì, funghi, champignoni e galletti. Questo, con le erbe mediterranee. Questo, con le patate, e questo, che è strepitoso, ve l'avevo già fatto vedere, con le zucchine e i semi. È buonissimo! Se lo trovate, prendetelo e provatelo. Poi, andiamo avanti, con un bel pacchettino di parina, questo è il pacco da chilo, parina tipo 2, quindi quella semi integrale. Una confezione di tonno, sono tre scatolette da 80 grammi. Poi, delle merendine integrali con il miele. E, eccole qua, della Lina Coop. In offertissima, la crema Nivea, questo è un flaconcino da 250 ml. Latte idratante e rassodante. Poi tiriamo tutto su. 10 giorni, pelle visibilmente più tonica ed elastica. Se poi non è vero, la riporti indietro. Comunque, andiamo avanti. Lì gli ho, per il piston brillo, anche questi in offerta. Queste sono sei merendine da 35 grammi. E poi, dato che è la sera, adesso faccio un pochino tardi. Per aiutare e avvantaggiare il piston brillo, ho preso delle zuppe pronte. Così lui le scalda al microonde, io arrivo ed è già, la cena è già pronta. Ecco. E quindi, ho preso la nostra preferita, la zuppa toscana, della linea Demi Desi. Senza aglio. Un'altra senza aglio è la zuppa ortolana. Anche questa è già presa e ripresa, molto buona. E questa ha il farro. E poi, ho trovato questa, che è una novità. Un purè fresco con zucca e carote. Infatti, se guardate, se si vede, è tutto bello giallognolo. Arancione, non giallognolo. E questa è da provare. Della linea Demi Desi, anche questa, come fatto in casa. Anche questo qui si scalda al microonde. E proveremo, vedremo. E basta. Io ho finito. Vi ringrazio per l'attenzione. Ciao, ciao! Grazie.